ok 3 2 1 c'è ragazzi sempre il boss di monopattini adesso vi faccio vedere una cosa ovviamente magari starete già notando oppure no chi se ne frega guardate e ovviamente vi fate anche una risata che va bene però io ce li ho e voi no ok vi ricordo sempre di iscrivervi sempre i seguenti canali youtube mi raccomando accendendo accendendo la campanella ne vedete sempre delle belle almeno vi arrivano le notifiche per i nuovi video e le mie nuove cose gadget cacchiate però va bene allora poi vi ricordo sempre di iscrivervi ovviamente va bene l'ho detto adesso youtube va bene mondo elettrico italia di facebook e novità assoluta canale instagram con il boss dei monopattini ok tanto sono sempre io e va bene così ok vi faccio vedere una cosa al volo e poi vado tada ok sembra quello di transformers ok oggi che robò d'acciaio mi manca solo a far capriola poi mi trasformo tutto via la moto e va bene ok bene guardate bene guantini tattici ma ma se io vado a fare questo questo è morto ok è vivo bene come potete vedere adesso aspetta uno è morto o no aspetta è buono allora ok bene allora guardate bene anche questo è acceso ok non avete le frecce sul monopattino bene guantini con le frecce se io devo girare a destra giro a destra se devo girare a sinistra gira a sinistra se devo girare da tutte e due le parti emergenza no aspetta ok così vabbè insomma devo aprire devo allungare devo allungare guardate poi come ritorno in posizione si spegne vedete se io devo girare tac come potete vedere devo fare così per farle andare poi ritorno a guidare e si disattivano ecco adesso si attivano lo stesso ma chi se ne frega però sono fighi eh bene ragazzi se li volete compratevi lì ok bella lì ciao ragazzi ci vediamo